Il simbolo di Carpani non c'è più. L'alto cipresso che svettava sulla strada dai primi del Novecento è stato abbattuto perché è arrivato alla fine del suo ciclo vitale. Da tempo le chiome erano secche e il fusto si era spostato. A questo punto alcuni cittadini hanno interessato il comune. Sono stati effettuati sopra luoghi da parte del personale dell'ufficio tecnico portoferraiese e di quello provinciale, ma secondo gli esperti non c'era più nulla da fare. Per la sicurezza di cose e persone l'albero doveva essere tagliato. Immediata la reazione sui social network dove sono apparse domande e richieste di chiarimenti sull'abbattimento del cipresso. Sembra però che non ci fossero soluzioni. Non potevamo fare niente, l'albero era secco, spiega il consigliere portoferraiese Riccardo Nurra che ha seguito il caso. Abbiamo aspettato, ci abbiamo pensato a lungo e valutato tutte le opzioni perché sappiamo l'importanza che quella pianta ha per Carpani. Continua, ma alla fine abbiamo dovuto pensare alla sicurezza e tagliarlo. Ora al suo posto c'è un triste tronco, ma non è detta l'ultima parola perché Nurra non esclude la possibilità di dare una continuità al cipresso e di poterne quindi piantare uno nuovo che crescerà e tornerà ad essere il simbolo di Carpani. Come lo era quello tagliato, su cui nelle feste natalizie veniva montata la stella cometa e che era un punto di riferimento per dare indicazioni su luoghi e indirizzi. Il progetto dovrà essere verificato, ma i propositi del consigliere per quanto riguarda il verde cittadino non si fermano qui. La sua intenzione infatti è incrementare gli spazi verdi a Portoferraio. Vorrei mettere nove piante a posto delle 30 tagliate alle ghiai e annuncia Nurra, altrimenti desertifichiamo e basta. E poi creare un parco alla brichetteria. La precedente amministrazione aveva previsto la costruzione di un secondo palazzo, ma noi non abbiamo intenzione di realizzarlo. E al suo posto piuttosto metterei alberi che possano creare un polmone per la scuola media e per il palazzetto dello sport che si trovano a pochi metri di distanza.